Una donna che mi piace moltissimo è la Sandra, o anche tutte quelle che si vedono in televisione, io le guardo sempre, le guardo. Io invece le donne più belle le ho viste in Artitale, sui Carzo, quando era a fare militare, tese. C'erano queste friulane alte, bionde, di gamba sverta, con quei porpacci sodi. E poi le ridevano. Avevano tanta fame, poveri figlioli, ma le ridevano sempre. E come gli ballavano le poppie. E sembra il giorno di Pasqua, quando sciolgano le campane, capito? Poi, e tu le stendevi in terra, e loro dicevano, no, mi non voglio, mi, ma ti spinsi di più, hai capito? E intanto gli allargavano le gambe, e le pelle cosci bianche, atteso. È molto bello. Oh, che tu fai? Che ti tocchi il coso? È molto bello. Rimattilo dentro il cimbello, sai? Ti ho detto rimattilo dentro. Ah, Annibale, devo finire, se non mi fa molto male la testolina. Brutto schifoso, tanto se altro. Guardate che mi tocca a vedere la mia età. Bruna, oh Bruna. Campiani, corni. Scusate signor Annibale, ma qualcosa gli avrete pur detto, perché lui si ispira sempre a qualcosa. Cosa potere.